musica la mia sbaglia ahhh va dove cazzo vai? a mia rana è un buco di bianco io faccio me lo faccio e poi ahhh no vabbè è morto e si prendo ok è morto mi sto con ahhh aspetta dove siete nemmeno? mi sciuovo un po sac bici sac ma cac fai in trentino mi muto un attimo ok mi sono morti bari giù in giocerno è arrivato io sono attraverso e il colpi del moscin eh servono a me mi devi dare cose mannaggia ok io sono tutto il moscin però non lo voglio no no prendi lo prendi io ho l'honscope mi dai il moscin con l'honscope io ti do il blaze merda sta mangiando sopra io ho anche un binocolo in più eh questo è il moscin è l'edificio tech però fai piano chissi ho preso il moscin però non serve qualche arma per me eh ti do il sleight si può tirare a mangiare eh che ha gli stessi colpiti moscin eh ok ma lui c'è una qualche colpo fai tutta venti colpi ce li dividiamo cosa facciamo 10-10 no non ce la facciamo no 10-9 a 10-10 ma non ce la facciamo a 10-10 va bene ma che cazzo what the fuck non è morto no aia prendi l'arma in particolare dietro l'ospedale quello centrale o quello del quello centrale e dove sei adesso rivedo di arrivare c'è sì ci sono là mi dai un attimo oh come lo uccido stai attento sopra oh ma non è tanto difficile c'è scritto il tech è un edificio quello lì che ha il tettuccio dentro è vuoto dentro è vuoto quello che in cima c'è tipo una specie di tettuccio piccolo oh sta scendendo un è sceso un è sceso merda è dietro sta arrivando l'auto zombie occhio che sparano l'ho preso l'ho preso si hai preso ok ho ucciso lo zombie è a terra è a terra ok che c'è il suo amico oh merda ma hai preso ma che si ha fatto prenderti qualcuno mi ha preso vabbè attento stai attento chissà intendi quello il suo amico sta sanguinando c'è una scala pioli e una scala normale no che la sta salendo un altro un'altra ancora mi ha rotto sta arrivando da te sta arrivando da te gli sparo gli sparo allora allora io sono sul lato del mare sul porto mi copri che vado a luttare il corpo e vincchia non ti conviene ti sparo in testa dai ci sono le vetrate si si è un edificio che c'è una tromba della scala no eh si che è un'altra l'ho coppia no io l'ho 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 il l'ho il l'ho il l'ho l'articolo l'articolo capito per la vera mezzo facendo confusione quelli e' morto morto il tuo marzo qualcuno di sol io guardo di solto adesso guardo di solto o se sono gli spunti si e voluto l'altro corpo di stare a gradino apioli c'è una bella differenza simon ecco lì che c'è io lo vedo qua sopra invece di sotto mi vedrete perchè sono semi fresh bone e? l'ho preso in testa ok mi vedete? sono fuori uscide uno zoom stai in alto la mano pegui il tuo gas occhio ad abbassarti che te lo butta non nell'ano non no non 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 è